Era una scelta, perché loro avrebbero proposto un centrocampo molto forte, così è stato, e speravamo di riuscire a fare superità in quello e di mettere un po' in difficoltà i loro difensori centrali, che potevano avere qualche difficoltà sull'apertura dei nostri attaccanti. Ci siamo intestati un pochino nel giocar parla a terra quando non c'era possibilità nel primo tempo apposta di farlo, ma poi su un tempo abbiamo scelto una soluzione diversa, abbiamo scelto l'ampiezza, con Rampi prima e poi con Mariani, credo che i risultati siano stati positivi.